La sindaca ha detto che dà aiuto a tutti i bisognosi come noi, ci paga l'affitto. Alleviamo le galline ovaiole. Sai che so? No. Capita spesso? Al centro manco c'è stanno l'ascensore. Dai, questi sono per te. Ma no. Come no, mi hai aiutato a fare due rampe di scale? Mi offro un caffè. La ballerina. E io le ho detto che anche tua mamma fa la ballerina. Oggi ho visto tua madre, che bella che è sempre in tiro, proprio una figa. E dai, e salgli un attimo da lui e fatti dare qualcosa. Ti prego, domani gli do i soldi. Ma te vuoi andare a dormire? C'hai pure il figlio. Tu devi essere Dora. Come vado così? Ma che sei pazzo? Non ti chiedi. Portati un'arma. Magari sono io l'arma, ma tu non lo sai. Ma perché tu sei uscita di galera? Me lo dici, devi resta in galera te. Tu mi hai fatto uscire stronza. No mamma, non eravamo una famiglia. La famiglia. No.